Siamo in compagnia del professor Amirigo Giudice che è stato eletto direttore della scuola di specializzazione in chirurgia orale presso l'Università della Magna Grecia. Forciamo un po' il punto della situazione proprio su questa novità per il Sud Italia, anche perché si tratta di una vera e propria iniziativa firma dell'Università della Magna Grecia per quanto riguarda il triennio prossimo, lei è stato incaricato in qualità di direttore, ma non solo, lei è stato anche colui che ha portato avanti questo progetto davvero innovativo. Di che cosa si tratta in modo particolare? Guardi, la scuola di specializzazione in chirurgia orale del nostro Ateneo viene da lontano, l'istituzione e quindi l'accreditamento della stessa nell'ambito del corso di laurea in odontoiatria presidentaria è un traguardo importante per la nostra Università perché si va a collocare nel panorama di altre scuole di specializzazione che sono presenti soltanto in grossi Atenei come quello effettivamente di Napoli e di Messia. Il risultato è un risultato che, come dicevo, parte da lontano ed è stato condiviso, anzi fortemente voluto, dal nostro magnifico rettore, il professore De Sarro, così come da altri organi accademici, dal coordinatore corso elare, il professore Fortunato e dal sottoscritto. Questo è un traguardo, ripeto, credo importante perché conferma uno standard elevato di prestazioni specialistiche erogate dai nostri ambulatori che hanno permesso di avere il parere favorevole del Ministero dell'Università e della Ricerca, del Consiglio Universitario Nazionale, nonché del Ministero della Salute, proprio per l'attivazione di una scuola di specializzazione in area odontoiatrica. Quindi questo per me è motivo di grande orgoglio perché oltre ad essere la prima scuola di specializzazione appunto di area odontoiatrica calabrese, ripeto, è anche una delle poche accreditate al Meridione. Ecco, e quindi diciamo proprio sotto questo punto di vista cosa cambierà da questo momento in poi? Cioè chiaramente magari vi sarà la possibilità anche e soprattutto da parte dello studente, dello specialista, di restare in loco, di restare sul posto? Beh, guardi, guardi dottoressa, l'area medica odontoiatrica sta seguendo un po' le tracce segnate dalla scuola di medicina. All'odontoiatrica moderno oggi si chiedono delle competenze sempre più specialistiche ed in questo senso l'Università, quindi in questo caso l'Università Magna Grecia, si è mossa. Perché l'istituzione della scuola offre ai neolaureati o comunque ai laureati in odontoiatrica e proprie studentali la possibilità di affinare il loro percorso formativo post lauree senza per forza dover quindi emigrare in altre città o in altre realtà. Questo effetto si ripercuote poi sull'assistenza ai pazienti o meglio l'alta specializzazione dei corsi di laurea e ovviamente degli ambulatori in questo caso odontoiatrici si ripercuotono nell'alta specializzazione delle procedure che si possono offrire ai pazienti. E questo ovviamente non vale soltanto per la Regione Calabria ma per tutto il Meridione o comunque per le Regioni Limitrofe. Ricordiamo che lei è originario di Sala Consilina, del Vallo di Viano. Quale effetto le ha fatto proprio diventare direttore di questa scuola e quindi essere a capo di un team davvero unico e specializzato? Non le nascondo che c'è un po' di nostalgia per il territorio a me caro che è appunto il Vallo di Diano ma con grande orgoglio le posso dire che io sono ovviamente salernitano e rimango salernitano pur essendo comunque calabrese d'adozione. Non le nascondo che il mio ordine di appartenenza tutt'oggi è comunque l'ordine dei medici di Salerno a cui mando i miei più affettosi saluti nella persona del dottore Ciancio. Quindi le mie radici rimangono ben salde e sono sicuro che le radici e anche il nostro carattere un po' abbastanza tenace, abbastanza caparbio poi possa anche in altre realtà portare a traguardi soddisfacenti. Infatti ecco, prova ne è che lei appunto sta compiendo passi da gigante, se così si possono dire, proprio in un ambito a lei molto favorevole, quindi in un ambito dove lei chiaramente si è mosso fin dall'inizio dei suoi studi. Quindi forse anche sotto questo punto di vista tutto ciò è stato, come dire, l'è stato conferito proprio al termine o comunque in corso dei suoi studi, quindi della sua carriera? Beh, guardi, la carriera assistenziale, ospedaliere e poi quella universitaria non sono relativamente semplici e comunque sono abbastanza lunghe. Le dicevo probabilmente comunque la tenacia tipica del carattere delle nostre zone probabilmente in questo senso mi ha aiutato. Devo dire che in università qui a Catanzaro abbiamo trovato tante persone, locali ovviamente, ma anche illuminate come appunto il magnifico rettore che hanno poi sostenuto le idee di crescita del corso di laurea stesso. Non le nascondo che comunque quest'anno per me è stato un anno complesso, ma che come per tutti ovviamente, ma queste soddisfazioni sono un motivo in più per credere nel lavoro che si fa. L'attivazione della scuola, motivo di grande orgoglio e lo ripeto, avviene anche in un anno complesso da un punto di vista strettamente assistenziale. Credo che procedere verso un numero elevato di prestazioni e di alta qualificazione, soprattutto quest'anno, era molto più complesso per la pandemia che stiamo vivendo. Quindi le rinnovo la mia grande soddisfazione. Certo, infatti noi le auguriamo davvero un grande in bocca al lupo, le auguriamo davvero un buon lavoro e che sicuramente compirà nella maniera più egregia e più, insomma, come dire, migliore possibile sotto questo punto di vista. Quindi grazie, grazie mille per il suo intervento, davvero. Dottoressa, grazie a lei.